Ciao a tutti ragazzi, io sono TheRexel e bentornati con Call of Duty Modern Warfare Reflex, il primo. Allora, continuiamo le missioni. Stiamo finendo ragazzi, finalmente stiamo finendo Call of Duty. Ci manca poco. I nostri governanti si sono fredduti all'Occidente distruggendo la nostra cultura, la nostra economia e le onore. La nostra terra, la tinta del nostro sangue. Vi ricordo che è morto appunto il figlio di Zakaev, cioè quello che sta parlando. Sulle loro mani. Io salterei perché mi senti a sentire questo filmato di merda e non spiega praticamente niente. E' direttamente giocare. Allora, sì, qui vediamo un primo piano con il Capitano Price. Guardate che bello, guardate che pixeloso, mamma mia. Allora, basta. Allora, si chiude. Sì, 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 puoi chiederti quello che vuoi. Allora, facciamo esplodere per anni le persone e così siamo tutti più contenti e più felici. Allora, io lancerai subito una bella bomba granatogena. Ah, sì. Cioè, quello l'ho sprecata per lì. Beh. Eh... Aspetta! Perché ho fatto quel grido? Mamma mia! No! Aspetta! Aspetta! Lo sapevo! Lo sapevo! Porca puttana! Avanzai! Avanzai! Finalmente ho fatto esplodere di nuovo per anni le persone. Così sono contenti, esplodono l'injoio. Questa è una foto corrispondente. Ok. Non gli arriva male la vita. Ok, l'abbiamo, l'abbiamo deciso. Con la pistola? Proviamo ad aggirarli. No, vabbè, sono morti tutti. È tempo che gli aggira. Aspetta, quello è mio, eh? Sì. Sì, era me. Cazzo. Va bene, va bene. Allora, continuiamo. Dove devo andare? Qua. Qui. Dobbiamo entrare. Qui. Porca. Sì, sbrigati, però devo sbrigarmi. Allora. Vogliamoci, piano, piano. Non fate rumore, attenzione, mi raccomando, non fate rumore. Ok. Non abbiamo fatto rumore, no. No, vediamo presto, mi scusi per la sua animazione di merda che doveva uccidere l'amico, mentre... Oh, mio Dio. Che cazzo? Beh, facciamo finta di niente. Sì. Il nostro soldato è morto. Ok. Buongiorno. Aspetta, dove devo andare? Ah, sì, dove mi ho scenduto. Ok. Qui. Grazie, dopo tutta la confusione che abbiamo fatto, magari l'avremmo ucciso. E sbrigati, se dobbiamo passare al complesso successivo. Ragazzi, anche qua, attenzione a non fare rumore, perché, se no, si potrebbero incazzare. Ok. Buongiorno, buongiorno. Oh, mio Dio. Stai arrivando un cane pixeloso. Fai paura al cane pixeloso, no, no. La mandibola smandipolata. Va, sei, muore. Mi dispiace tanto per gli animalisti che adorano i cani, ma purtroppo se un cane mi viene addosso, non è che lo posso accarezzare, cioè. Ma facciamo due giorni, non rimane. Ok. E dopo aver sterminato mezzo mondo, possiamo continuare. Come al solito faccio confusione perché mi piace, aspetta la mente subito. L'esplosione più brutta del mondo. Dove dobbiamo andare? Non c'è nessuno. Ah, sopra non avevo visto le scala. Nessuno. Ok. Non dovremmo fare rumore, però vabbè. Oh mio Dio, ho ucciso dentro la parete o qualcuno. Oh mio Dio, sono un cecchino che non è cecchino. Esatto. Dai. Non si vede un cazzo. Va bene, va bene, va bene. Sono tutto io. Va bene. Sì, 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 andiamoci, andiamoci. Scappiamo fuori subito. Se no esplode l'universo. Subito dai, forza. Sì. Non è esploso l'universo perché io sono uscito prima di tutti. Non vi preoccupate, non fanno niente, sono solo animazioni. Anche se ci vedo non succede niente. No, mi sono scordato come si attiva la C4. Esplodiamo tutti insieme, lalalalalala e boom. Sì, voglio volare pure io. Oh mio Dio. Ah, l'animazione è più brutta del mondo. Mamma mia che schifo. Ah. E allora, andiamo, dove dobbiamo andare? Qua. Qua. Sì, quelli sono stanno andando là. Devo non ammirare il paesaggio, guarda, guarda che bello. Una merda, che schifo tutto il fumo, si intossica. Va bene, dai. Qua. Qua. Ok. Eh, la tua arma si sta muovendo malissimo. Che cazzo. Si è buggata la tua arma, compa. Cioè, non te lo vorrei dire. Aspetta. Ok. Possiamo avanzare. Mamma mia, no, 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 no. Questa parte non mi piace. Dovrebbe essere tutta stealth, ma non ci riuscirò mai. Cioè, un piccolo pezzo è stealth, però non me la filo neanche quelli. Allora, mi dovrei prendere qua il cecchino. E basta. Perché questo chi è buono. Sì, è buonissimo, perfetto. Allora. Ah, vedi. Già ce l'ho sgamato, quindi... Cioè, non c'era neanche bisogno di prendere il cecchino. Faccio schifo a cecchino. Ok. Mamma mia, due in un colpo. Uno nel cuore che fa più male. E dopo la testa. Fammi entrare subito. Ok. Non voglio esplodere. Non voglio esplodere. Ok. RPG religi sui detti! Muori e esplodi tu, invece. No, no, no. Una e due. Esplodi, boom! Boom! Sì, mezz'ora per mirare. Manca il tempo di non farmi lanciare la viola d'accecante, poca puttana. Io mi cerco di detenermi, per non dire parolacce. Che cazzo? Allora, riprendiamo, rifacciamoci tutta la cosa, prendiamo il cecchino che non serve in realtà una bella minchia perché dopo appena entro qui mi sgamano subito. Ecco, appunto, uccidere da dove cazzo vi piace e uccidere da questa persona non conosciuta e basta. No, scappare dalla bomba. Buongiorno. Non l'ho preso mai nella vita di tutte le vite, evitanti. Cosa dice la baboche? Cosa dice, cosa dice la baboche? Non ha senso quello che dice. Allora, esploriamo tutte cose. Esplodiamo. Aspetta, non voglio esplodere. Non basta usare le parole esplodere. Perché 들i... Oh, no, 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 BOY. Eh, che cazzo? Taglio. Eh, ragazzi, siamo ritornati qui. Mi sono preso munizioni, cioè le armi migliori. Questo che fa... Che rompe wiiuglio proprio lì. gli spag... gli tritur... gli tritura però non morire di nuovo per favore perchè sennò mi incazzo ok grazie per non essere morto non esplodere per favore ok non... non venire qua non girare subito l'angolo perchè sennò mi incazzo ma sei tu che mi uccidevi un cazzo di secondo? oppure tu? guarda sono scampato oh! ma non le bombe sono morti mi dispiace ok non mi peso mai ah! guarda sono morti? no allora dovrebbe essere morti ok qui no 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 era mio sono un testa di cazzo perfetto ma già lo sapevate quindi non c'era bisogno che lo ribadivo perfetto stai mandando avanti per fortuna perchè non mi fai andare oltre? sto morendo ok no quindi parati proteggiti oh ma che c... aspetta qua mi stanno vincolando con dei razzi atomici subnucleari e basta e basta poi che non piaccia non ci siamo che ci sono che ci sono buongiorno che cazzo sta facendo si sta scopando un AK-47 no 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 ragazzi rieccoci questa volta sono diventato più forte hanno fatto tutto i miei compagni e io buttavo le granate accecante e ora mi riuscirono perché sono stupido dai quando muoiono tutti così sono più felici no no vabbè ritaglio scusatemi ragazzi cosa? non ho capito l'ultima parola mi spiace non scappare basta però mi sono incazzato ok c'è il punto oh che cos'è? wow cioè tu dall'aspar sei un grande sei un cecchino grazie sei un grande cecchino sei un grande cecchino basta ok posso spararti per sempre non mi esplodere no alla fine sono esploso veramente porca bo... perchè ho preso una K-47 K-74U che cazzo è una nuova arma? ok almeno non da solo sei capito ok ehm si tu dai colpi all'aria e non esplor- ok oh ancora sono ritornati in vita dopo essere morti con il cecchino ok 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 qua 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 bo www bobo si esplodi no non mi sei squat ok ok non capirlo ok ok ehm ehm Jake point raggiunto sì sono contento aspetta se non esplodo mi devo dire il suo vizio di esplodere no troppo le bombe le bombe sono belle servono alla vita ad esplodere a rendere i bambini felici no e dopo aver detto quel no incredibilmente brutto continuiamo sperando di non morire questa volta mamma mia sto facendo una carneficina brutta devo rientrare subito buongiorno buongiorno no non mi sparare no non voglio morire no non basta morire che cazzo ragazzi questa volta forse ce la facciamo non ne sono così tanto sicuro però forse ce la facciamo ma che cazzo non ci sono non ci sono Ok, aspettiamo. Ok, sono morti tutti. Ok, possiamo andare. Finalmente, il checkpoint, porca puttana. Va, sono più contento. E lanciamo una granata per... Mila sotto e arrivo. Minchia, sono superman. Oh, che cazzo è? No, non ti faccio passare. Non mi interro, non ti faccio passare. No, no. No, no, no. Smetti. No. Che cos'è con questo sole incredibile? Un missile pixeloso? Cioè, che è poi un rettangolo. Vabbè, lasciamo stare. Ma non morì. Ok. Quello non era un missile, ma era un missile pixeloso. Mamma mia, i missili pixelosi vengono nel mondo. E sono oggetti inanimati, naturalmente. Sì, vabbè, certo. Ragazzi, sì, scusate, il rumore è inaspettato. Ragazzi, il video finisce qua. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Scusate per il pirito, ma sono state le mie mani. Guardate, sentite? Basta, basta. Il video finisce qua. Commentate, iscrivetevi al canale e ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.